Radio Venezia, live social Silvia Marcon, buonasera Ciao Luca Filotto, buonasera Buonasera a voi Cinzia Piovesan, buonasera Buonasera a tutti Come nasce la passione, immagino che comunque ci si ha dentro e si evolve, no? Certo, si evolve, sì, insomma, siamo tutti appassionati di musica, ci piace stare in mezzo alla gente, divertirsi 16 anni Giusti 16, eh? I primi 16 Ok, dai Iniziati tra me e Luca, c'è la sorpresa perché lei è il nostro valore aggiunto, no? E spiegheremo che ha iniziato prima di noi, quindi non è tanto più giovane Infatti, infatti Siamo nati in due, appunto, Silvia e Luca, c'è stata un'evoluzione pazzesca, come l'evoluzione dei primati Infatti nel 2002-2003 abbiamo iniziato da seduti, poi abbiamo imparato a interagire con il pubblico Poi abbiamo cercato di imparare a ballare, poi abbiamo conosciuto Cinzia E con me è stato più semplice, perché io sono una ballerina Ha aggiunto quel che Sì, a livello vocale ma proprio visivo, perché poi in realtà siamo riusciti, insomma, a creare questa sorta di musical nel nostro piccolo Nell'interazione Sì, perché noi cerchiamo di interpretare le colonne sonore dei film famosissimi E quindi ci cimentiamo anche proprio nell'esibirci come nei balletti veri, nei musical Bisogna vederci, è più che ascoltarci Come abbiamo capito che quello era la cosa giusta, è stata proprio la risposta del pubblico, insomma E il nostro divertirsi insieme L'amore sta alla base delle nostre esibizioni, quindi ce n'è molto bisogno Sei nella prestazione giusta, questa scintilla che avete avuto anche voi, questa amalgama Come riuscite anche a tramandarla? Il risultato è tangibile, ma davvero dopo un percorso, come abbiamo detto prima, pregno di sacrifici Sincerità, la trasparenza, cioè esibirsi, lavorare, ma dirsi tutto Quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che vorremmo che gli altri facessero in un modo o nell'altro Si cerca sempre di comunicare tra di noi e poi vedere anche quello che è la risposta del pubblico, chiaramente Una costante ricerca nel miglioramento Hanno questa luce particolare negli occhi proprio di chi davvero li vive quei minuti sul palco Noi siamo sognatori, sognatori Sì, sì C'è un faro lì che mi sta illuminando, lo adoro Questo spettacolo, no? È davvero per tutti, no? Certo, certo, noi andiamo proprio a prenderli, capisci? Noi andiamo in mezzo alle persone, le coinvolgiamo e riusciamo sempre a farli divertire Interagire, è la soddisfazione Coinvolgerli nel nostro mondo, chiaramente senza essere invadenti Abbiamo un obiettivo comune, no? Che è migliorare la qualità della vita Farlo appunto interagendo con il sorriso vi permette magari di passare attraverso la vita delle persone Ma anche di rimanerci, perché è un ricordo importante Assolutamente Infatti proprio nel settore del matrimonio, dove abbiamo investito molto di noi stessi Lì abbiamo l'opportunità di condividere con loro la gioia di quel giorno Si percepisce la passione che avete e poi è un momento anche di responsabilità Perché scegliete il momento del matrimonio, è delicato E lì non si può effettuare tagli, lì è proprio una diretta, non si può tornare indietro Si forma tutto in quel momento, quindi il nostro lavoro è proprio capire cosa serve in quel momento Qual è la musica giusta, lo scherzo, il gioco giusto Insomma, bisogna avere una grande sensibilità per riconoscere chi si ha di fronte Io l'ho detto ai microfoni spenti, avevo promesso di non dirlo a microfoni accesi Ma è una gran figata ragazzi Grazie, grazie Vi divertite, tra l'altro è sempre una nuova sfida Perché proprio dovete essere bravi in tutti i campi E noi diamo tutti i contatti di riferimento ovviamente per raggiungere 349-60-65-691-www.silvialuca.com Silvialuca.show è su Facebook, mi raccomando, li ha like per sostenere questa bella attività Anche perché lì tra immagini evocative, programmi, trovate davvero di tutto L'indirizzo mail è esl.pianobar, chiocciolalibero.it per qualunque tipo di richiesta e di informazione Loro ci sono ovviamente Ci siamo, ci siamo sempre, rispondiamo a qualsiasi domanda Giorni e notti, tanto rispondere lei Sì appunto, tanto il numero è mio La cavia, grazie a tutti Ciao ciao